E buonasera ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui come volete detto dal titolo andremo a parlare della prima grande espansione Destiny 2 I Rinnegati e in generale di tutto l'anno 2 Partiamo proprio dalla prima grande espansione Ieri infatti come sapete c'è stata la live di Bungie che ha annunciato tutte le novità riguardo l'anno 2 e riguardo la prima espansione E in questo video quindi andremo a riassumere questi contenuti Partendo dalla campagna sappiamo che questa inizierà con un'evasione dalla prigione degli anziani Questa evasione sarà causata dalla nuova fazione caduta degli infami comandata da 8 baroni che saranno diciamo il punto centrale di questa storia La campagna sarà ambientata nella riva contorta che è una parte dell'atollo in cui regna completamente l'anarchia Inoltre durante questa espansione Ked 6 avrà un ruolo importante Per quanto riguarda invece il ride c'è stato detto che in questo troveremo veramente molti boss E che si svolgerà nella città sognante ovvero la casa degli insonni Questa città sognante però non sarà solamente la location del nuovo ride ma sarà una delle mette principali dell'endgame In cui saranno inclusi puzzle e segreti che cambieranno ogni volta che verranno completati E' stato infatti detto che questa destinazione sarà sempre diversa In generale poi verranno aggiunti ovviamente dei nuovi armamenti, delle nuove esotiche che in totale andranno a comporre più di 2000 oggetti che potremo ottenere Una novità veramente eclatante è quella del nuovo sistema delle armi Infatti potremo equipaggiare tutti i tipi di armi in tutti gli slot Per esempio potremo equipaggiare un fucile a pompa nello slot primario, un cecchino nel secondario e un lanciarazzi nel terzo Dopodiché saranno aggiunti gli archi ovvero una nuova arma Questi avranno una corta, una media o una lunga gittata e sono stati annunciati come delle armi veramente devastanti Verranno aggiunte altre super che da quello che ho capito sono delle super alternative alle sottoclassi che già abbiamo presenti Per esempio abbiamo dei coltelli infuocati che sono un'alternativa del pistolero Un martello gigante che appunto è l'alternativa ai martelli di sol Una sorta di esplosione a vuoto che è l'alternativa della bomba nova E un'onda energetica d'arco che dovrebbe essere l'alternativa dell'evacatempeste Torneranno per quanto riguarda gli armamenti i random roll Quindi ogni arma e ogni armatura avrà delle caratteristiche diverse tutte le volte che la dropperemo In più verranno aggiunti i trionfi quindi diciamo delle piccole quest che riguarderanno tutte le attività E che ci daranno appunto delle piccole ricompense come per esempio emblemi oppure dei titoli particolari Un elemento molto comodo sarà quello delle collezioni Che raggiungibile dal nostro inventario ci permetterà di vedere tutti gli armamenti che possediamo Tutte le armi, tutti gli emblemi e così via Inoltre sarà presente un passo annuale Questo semplicemente ci fornerà dei piccoli contenuti in più durante le diverse stagioni Diciamo che è come un piccolissimo DLC Una delle grandi novità invece di questo anno 2 sarà la modalità azzardo che potremo vedere durante le 3 Questa infatti è una modalità che coniuga PvP e PvE In questa attività due squadre si ritroveranno in due arene diverse e verranno assaltati dai nemici I nemici una volta morti lasceranno cadere delle particelle La squadra dovrà raccoglierle e inserirle dentro una banca Che dopo tot particelle evocherà un boss nell'arena avversaria Gli avversari dovranno per forza uccidere il boss altrimenti non potranno raccogliere particelle E quindi continuare con la sfida Una volta che abbiamo evocato un certo numero di boss Nella nostra arena apparirà il primordiale che appunto è un boss molto più forte degli altri Semplicemente ci basterà ucciderlo e quindi vincere il round Queste ragazzi sono le informazioni che sono state rilasciate durante la live di ieri Domani uscirà un video riguardo agli elementi un po' più nascosti Che comunque necessitano di una certa speculazione Io direi che però se il video vi è stato avuto di lasciate like, commentate, condividetelo A tutti quelli che non conoscete e non conoscete che c'è la trallissima Seguisci anche su Instagram, Facebook come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione E anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito E detto questo ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao!